Ce ne siamo accorti tutti. Nella giornata di ieri le nostre baccheche Facebook sono state invase da immagini invitanti e appetitose di fumanti piatti di pizzoccheri. Una mobilitazione mediatico-culinaria nata per dichiarare il proprio spassionato sostegno al simbolo della nostra tradizione, lanciato dall'Astac Io Mangio Pizzoccheri. Un'iniziativa nata per sostenere la pizzoccherata mondiale, idea lanciata dal segretario provinciale della Lega Nord, Christian Borromini, che ha proposto di istituire una giornata dedicata al re delle tavole della provincia per replicare con fermezza al velenoso attacco frontale con cui il primo nostrano per eccellenza ha dovuto fare i conti. Pochi giorni fa, infatti, il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato con queste parole al vetriolo il suo soggiorno in provincia. Sono stato quattro giorni in ferie in Valtellina a mangiare pizzoccheri. La caratteristica dei pizzoccheri è che il primo giorno sono buonissimi, il secondo ti fanno venire l'acetone, il terzo cementano e al quarto non ci arrivi, nel senso che muori. Queste le parole incriminate del giornalista che hanno fatto esplodere la polemica sul web. Ecco allora la pronta replica di Borromini, salito immediatamente sugli scudi per rispondere all'attacco. Il giornalista li ha trovati tutt'altro che leggeri, poco adatti in una dieta dimagrante, bella scoperta. Per chi ha queste esigenze, in Valtellina abbiamo la bresaola, le mele, il miele e lo yogurt, ha infatti affermato il presidente della comunità montana di Morbegno, che ha continuato sottolineando il valore culturale del nostro piatto simbolo. Per tutti quelli che in un piatto cercano sapori, storie e perché no ispirazione, i pizzoccheri sono insuperabili. Sfido chiunque a sostenere il contrario. Non vuole mangiarli per quattro giorni di fila? Libero di non farlo, ma lasci che tutti gli altri decidano per sé e soprattutto non offenda il buon nome dei pizzoccheri della Valtellina. In un'epoca in cui siamo tutti perennemente connessi, ecco allora l'idea di Borromini di lanciare l'iniziativa sfruttando la cassa di risonanza del mondo dei social network. Da valtellinesi siamo affezionati al nostro piatto più rappresentativo e lo difenderemo da tutto e da tutti, cominciando dalla pizzoccherata mondiale. La domenica con le famiglie riunite è la giornata ideale per mangiarli e per invitare a mangiarli in Valtellina, in Italia e nel resto del mondo. Sarà tutta salute. E così, ieri, migliaia di buon gustai da tutta Italia hanno scelto di schierarsi dalla parte della buona tavola, invadendo i social network con la pacifica protesta per rispondere a chi negli ultimi giorni ha messo in discussione uno dei tratti fondamentali della nostra identità. I pranzi domenicali dei valtellinesi sono così stati prontamente immortalati e condivisi. Un trionfo della buona tavola, una gioia per gli occhi di tutti e per i palati dei fortunati attivisti che, dopo aver adempiuto al proprio dovere armati di fotocamera e smartphone, si sono finalmente potuti godere gli appetitosi simboli della protesta.